No, l'hai mai fatta questa? No. E la devi fare? Ciao, siamo Edekika e vogliamo raccontarvi la nascita del nostro nuovo progetto, Plants Play, ovvero la realizzazione di un dispositivo che permette di ascoltare la musica generata da piante e alberi e che presto potrai preordinare tramite campagne di crowdfunding. Crowdfunding! Eravamo rimasti a quando facemmo domanda per avere dei finanziamenti regionali per iniziare il nostro nuovo progetto, Plants Play. Eravamo fiduciosi di farcela, ma invece la richiesta di finanziamento fu rifiutata. Non era il bando giusto per noi. Allora cominciamo a cercare nuove soluzioni. Nel gergo imprenditoriale si dice che ci servivano dei business angel, ovvero dei soci finanziatori. E alla fine la parola angel ci fece arrivare una consapevolezza. Te la fai al fuoco. La vita è imprevedibile e non ti puoi permettere di rinunciare ai tuoi sogni al primo ostacolo. Gli ostacoli servono solo a trovare una soluzione migliore. L'universo ci viene incontro tramite due nostri cari, sua zia Antonella e mio fratello Christian, due anime meravigliose che da non molto hanno lasciato la terra. Tutti e due ci hanno donato delle piccole somme e da subito ci siamo resi conto che sarebbero stati molto felici di poter far parte di questo nostro progetto. Avevamo trovato dei veri business angel e grazie a loro il progetto Plants Play poteva nascere. La base economica per partire l'avevamo trovata, ma adesso dovevamo affrontare la spinosa burocrazia italiana per creare una start-up e reclutare un team di esperti tra designer, ingegneri e programmatori per lavorare con noi al progetto Plants Play. Ma questo ve lo racconteremo nelle prossime puntate. Per continuare a seguirci metti un like alla pagina Plants Play e se questo video ti è piaciuto condividilo e lascia un like. Ciao a prestissimo!